Paolo, 14 anni, un ragazzo fortunato perché può dire mai avuto carie in vita mia da anni Dentifricio McLeans lavora proprio per questo perché tutti un giorno possano dire mai avuto carie in vita mia oggi McLeans aggiunge al fluoro il calcium GP un altro passo avanti nella prevenzione della carie McLeans non vi promette la fortuna di Paolo mai avuto carie in vita mia ma è certo che McLeans fluoro più calcium GP è un passo avanti nella prevenzione della carie